Tra qualche istante avrà inizio l'appuntamento con Aldo Cazzullo per presentare il libro Mussolini il capobanda, edito da Strade Blu Mondadori. Ringraziandovi per la partecipazione, Biper Banca augura a tutti un buon ascolto. Grazie per la visione! 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 Grazie aiggs! Grazie a tutti! di rivoltella due tre venti trenta sassi randelli volanti e randellate precise il cordone dei carabinieri scompare poi di slancio a passo di corsa contro i nemici la colonna oramai padrona di milano riconquistata ritorna in piazza del duomo ritmando la sua marcia col grido l'avanti non è più e portando in testa l'insegna di legno del giornale incendiato che fu donata mussolini nella redazione del popolo d'italia sul terreno restano trentanove feriti e quattro morti un soldato e tre socialisti il duce lo chiamano già così apprezza noi dei fasci non abbiamo preparato l'attacco al giornale socialista ma accettiamo tutta la responsabilità morale dell'episodio tutti gli squadristi del fascio milanese sono andati all'assalto dell'avanti come sarebbero andati all'assalto di una trincea austriaca questo è eroismo questa è violenza questa è la violenza che io approvo che io esalto questa è la violenza del fascismo milanese il primo episodio della guerra civile ci è stato il ministro della guerra generale caviglia convoca marinetti e mussolini per arrestarli per rimproverarli no per ringraziarli dello squadrismo abbiamo un'immagine quasi goliardica canti olio di ricino tirapugni manganelli financo stoccafissi le squadre mantovani di carlo butta fuoco usavano proprio gli stoccafissi per colpire la testa agli avversari frantumarne i nasi spettarne le mascelle e quando il capo fu eletto alla camera lo chiamarono coerentemente l'onorevole baccalà ma non soltanto i manganelli e potevano essere armi mortali anche perché erano rivestiti di cuoio con la punta in piombo a volte sostituiti da mazze ferrate portate in alberata all'altezza del pube come ideale prolungamento del fallo e non soltanto le vittime spesso venivano picchiate oltranza fino a essere storpiate rovinate per sempre e non soltanto per un capo lega essere costretto a prendere l'olio di ricino poteva essere un'umiliazione più definitiva che una morte da martiri i fascisti non avevano soltanto i manganelli fascisti avevano pugnali pistole bombe a mano fucili mitragliatrici montate sui camion e più avanti anche cannoni oltre ai nervi di bue con cui frustari e sovversivi tipo negrieri nelle piantagioni mussolini aveva ai suoi ordini un vero e proprio esercito privato spesso armato e incoraggiato dall'esercito quello vero comincia così una guerra civile come la definisce il capo stesso del fascismo per decidere chi debba guidare l'italia nella modernità chi debba vincere la partita tra padroni e operai latifondisti e contadini capitale e lavoro e mussolini lo teorizza la violenza è una necessaria chirurgica una dolorosa necessità è evidente che per noi per imporre le nostre idee ai cervelli dobbiamo a suon di randello toccare i cani dei retrattari sono pochi tra i leader politici ad avere il coraggio di denunciare quello che accade anche perché chi lo fa viene minacciato aggredito bastonato a un socialista del polesine è successo già tre volte eppure proprio lui il 10 marzo 1921 a prendere la parola alla camera per denunciare i crimini dei fascisti e di mussolini il suo nome è giacomo matteotti oggi in italia esiste una organizzazione pubblicamente riconosciuta e nota nei suoi aderenti nei suoi capi nella sua composizione nelle sue sedi di bande armate le quali dichiarano apertamente hanno questo coraggio che io volentieri riconosco che si profiggono atti di violenza atti di rappresaglia minacce violenze incendi mentre i galantuomini sono nelle loro case a dormire arrivano i camions di fascisti nei paeselli nelle campagne nelle frazioni composte di poche centenaia di abitanti arrivano accompagnati naturalmente dai capi dell'agraria locale sempre guidati da essi perché altrimenti non sarebbe possibile conoscere nell'oscurità in mezzo alla campagna sperduta la casetta del capolega o il povero miserello ufficio di collocamento si presentano davanti alla casetta e si sente l'ordine circondate la casa sono venti sono cento persone armate di fucili e di vortelle si chiama il capolega e gli si intima di scendere e se il capolega non discende gli si dice se non scendi ti bruciamo la casa tua moglie e i figlioli il capolega discende se apre la porta lo pigliano lo legano lo portano sul camion gli fanno passare le torture più inenarrabili fingendo di ammazzarlo di annegarlo poi lo abbandonano in mezzo alla campagna nudo legato ad un albero se il capolega un uomo di fegato non apre e adopera le armi per la sua difesa allora è l'assassinio immeditato che si consuma nel cuore della notte cento contro uno questo è il sistema del polesine prima i fascisti vanno all'assalto delle amministrazioni socialiste e costringono le dimissioni sindaci di milano e di bologna eletti dal popolo poi conquistano con le armi in pugno ferrara ancona bari terni varese e poi civita vecchia salvona bolzano infine trento vicenza belluno resistono soltanto sarzana dove i carabinieri sparano sulle camicie nere e parma dove gli arditi del popolo di picelli sconfiggono le squadracce di italo balbo ma poi mussolini ordina di attaccare pure i liberali i cattolici e anche i prefetti che rifiutano di obbedire ai fascisti come il prefetto di bologna cesare mori e il duce in persona a occuparsi di tutto anche di trovare le armi e di pianificare gli attacchi e lo rivendica la violenza non è immorale la violenza è qualche volta morale la violenza è risolutiva perché alla fine del luglio e di agosto in 48 ore di violenza sistematica e guerriera abbiamo ottenuto quello che non avremmo ottenuto in 48 anni di prediche e di propaganda quindi quando la nostra violenza è risolutiva di una situazione cancrenosa è moralissima è sacrosanta è necessaria il 1921 è l'anno della caccia all'uomo ad aprile il deputato friulano socialista marco ciriani viene preso costretto a ingurgitare un litro di olio di ricino e a defecare sul testo dei suoi discorsi parlamentari poi i fascisti lo legano al cofano di una macchina e lo portano in giro per il friuli prima di riportarlo a udine e tagliargli i baffi nella convinzione di umiliarlo in realtà svelando se stesse il 13 maggio viene ucciso eriberto ramella germanina consigliere provinciale socialista di biella aggredito 12 contro 1 il 29 maggio un centinaio di fascisti nascosti dai passamontagna tipo rapinatori o membri del kuklus clan danno la caccia ai socialisti del monferrato casa per casa almeno 9 vengono massacrati l'11 dicembre 1921 le camicie nere di cremona tendono un agguato lungo una strada di campagna ad attilio boldori deputato socialista invalido di guerra lui cerca di scappare ma la sua auto si ferma il camion degli squadristi gli è addosso e lo massacrano bastonati gli danno un colpo di gratta alla nuca e al processo il capo dei delle squadracce di cremona farinacci li scagiona dicendo non è colpa loro se le ossa del cranio di boldori si sono rivelate troppo deboli il 30 settembre 1922 a meno di un mese dalla marcia su roma la rivista il littore pubblica questa poesia il titolo è san manganello le teste di legno in alto ed in basso sono state domate con quattro legnate l'ordesti il cervello o san manganello un tronco piallato su teste su schiene con forza e cascato e a posto le tiene sanato ad un tratto ne fu il mentecatto torno gli il cervello per san manganello e se il comunista solleva la testa arriva il fascista gli rompe la testa o su viva dio chiamatelo dio che torna a cappello di san manganello un popolo pieno di tante fortune non può far a meno del senso comune italia hai domato il brutto arrabbiato e viva il randello di san manganello la marcia su roma in realtà comincia da napoli mussolini parla al teatro san carlo il 24 ottobre 1922 io vi dico con tutta solennità che il momento impone o ci daranno il governo o lo prenderemo calando su roma il colpo di stato non è un azzardo una mossa temeraria è un frutto maturo i fascisti sono i più spietati quindi i più forti solo il presidente del consiglio luigi facta da pinerolo non l'ha capito tanto che telegrafa al re in vacanza a san rossore credo che nota calata roma sia definitivamente tramontata mussolini in realtà tutto pronto si è preso gioco dei vecchi capi dell'italia liberale orlando nitti salandra giolitti lasciando intendere a uno di loro che lascerà a lui la presidenza del consiglio trattenendo per sé il ministero degli interni in realtà il duce teme un solo rivale il vate gabriele d'annunzio non ama mussolini perché mussolini gli ha rubato sia il motto eia 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 la la ma soprattutto un sacco di soldi il duce ha indetto tramite il popolo d'italia una raccolta fondi per aiutare l'impresa di fiume di d'annunzio però poi i soldi poi se li è tenuti allora mussolini scrive ad annunzio nella speranza di rabbonirlo ed evitare che lui gli metta bastone tra le ruole mio caro comandante i giornali e il latore ti diranno tutto abbiamo dovuto mobilitare le nostre forze per troncare una situazione miserabile siamo padroni di gran parte d'italia completamente in altre parti abbiamo occupato i nervi essenziali della nazione non vi chiedo di schierarvi al nostro fianco il che ci gioverebbe infinitamente ma siamo sicuri che non vi metterete contro questa meravigliosa gioventù che si batte per la vostra e nostra bella italia leggete il proclama in un secondo tempo voi avrete certamente una grande parola da dire vi saluto con devozione cordiale vostro mussolini a capo della marcia ci sono i quadruviri italo balbo ras di ferrara michele bianchi segretario del partito emilio debono veterano della grande guerra e cesare maria de vecchi di valcis mon di cui denunzio è grande estimatore l'ha definito una nullità tonante e anche un cazzo con i baffi i quadruviri sono riuniti a perugia è il più bel albergo della città l'hotel brufani che domina mezza umbria questo è il quadro che trova cesare dei vecchi quando si unisce al gruppo le stanze dove si è vegliato tutta la notte sono pieni di vassoi di bicchieri di bottiglie di spumante i portaceneri traboccano di mozzicone di sigarette di rimasugli di tabacco c'è odore di vino di fiati pesanti e di gente addormentata è odore di baldoglia notturna più che di bacco di soldati e la situazione è quanto mai confusa le idee sono poco chiari e discordi le camicie nere calano su roma il governo prepara il decreto per lo stato d'assedio che consentirà all'esercito di sparare sui fascisti ma il re rifiuta di firmarlo cosa è successo è successo che vittorio emanuele terzo si è consultato con il maresciallo diaz il vincitore della grande guerra e gli ha chiesto maresciallo posso contare sull'esercito vero e il maresciallo ha risposto certo maestà però sarebbe meglio non metterlo alla prova come dire che sull'esercito il re non può contare perché molti ufficiali rifiuterebbero di sparare sui fascisti anzi si unirebbero loro e poi il re ha un complesso una paura ha paura che il suo cugino il duca d'aosta il comandante dell'invita terza armata stia tramando per prendergli il trono il re è brutto il duca è bello il re è basso lo chiamano sciaboletta perché hanno dovuto accorciargli la sciabola per evitare che strisciasse per terra invece il duca è un gigante un omone e soprattutto il duca è un amico di mussolini il duca è fascista fatto sta che alle 16 di quel fatidico 28 ottobre 1922 il re riceve De Vecchi e gli dice il movimento che voi fascisti avete iniziato ha indotto il presidente facta a propormi lo stato d'assedio ho rispinto la proposta e non ho firmato nulla De Vecchi si commuove maestà gli italiani non dimenticheranno mai il suo gesto e le saranno sempre grati il re lo abbraccia faccia sapere che ho rifiutato di firmare lo stato d'assedio per non buttare gli italiani nella guerra civile sì penso anch'io che gli italiani se ne ricorderanno ma certamente per farmene una colpa o forse se ne dimenticheranno tra una settimana è successo diverse volte e succederà anche adesso gli italiani non se ne dimenticheranno e anche per questo il 2 giugno del 46 al referendum voteranno in maggioranza contro la monarchia per la repubblica ma per il momento il fascismo trionfa Mussolini ordina ai direttori dei giornali a lui ostili di non uscire in edicola poi telefona al direttore del Corriere della Sera Luigi Albertini e gli chiede ma lei cosa pensa di me? Albertini gli risponde penso che lei dovrebbe essere arrestato invece Mussolini riceve il telegramma dal Quirinale in cui il re lo prega di scendere a Roma per formare il nuovo governo soltanto in quel momento ha un cedimento emotivo si commuove e dice in dialetto romagnolo al fratello Arnaldo sul foseba se ci fosse qui nostro padre poi scrive di nuovo ad annunzio mio caro comandante le ultime notizie consacrano il nostro trionfo l'Italia da domani avrà un governo saremo abbastanza discreti e intelligenti per non abusare della nostra vittoria sono sicuro che voi la saluterete come la migliore consacrazione della rinata giovinezza italiana a voi per voi Mussolini in realtà i fascisti abusano della vittoria e come cercano subito la rivincita a Roma vanno nei quartieri di San Lorenzo che ha tentato di resistere e vanno prendere i socialisti casa per casa e li gettono al quinto dal sesto dal settimo piano delle case 13 morti decine di persone che resteranno paralizzate tutta la vita a Torino danno la caccia agli operai bruciano la camera del lavoro prendono il capo dei metalmeccanici Pietro Ferrero lo legano a un camion e lo trascinano per le vie della città c'è da sperare che Pietro Ferrero fosse già morto quando i fascisti gli strapparono i testicoli e gli cavarono gli occhi un brigadiere dei carabinieri Angelo Quintagliè inorridisce di fronte a quelle scene selvagge protesta e viene picchiato a morte anche lui i cadaveri sono almeno 13 più altri che vengono fatti sparire nel Po Mussolini telefona al prefetto di Torino per lamentarsi ne avete uccisi troppi pochi dovevate ammattarne di più ma torniamo a quel fatidico 28 ottobre di cent'anni fa un deputato del Partito Popolare interpella una cartomante di Cornigliano Ligure a Ida Settimina Magnani e le chiede come andrà a finire questo il responso grande vittoria fascista entro tre giorni sarà composto il ministero con a capo Mussolini tutta l'Italia sarà imbandierata fin qui la profezia si rivelerà giusta ma poi la veggente si lascia trascinare dall'entusiasmo e aggiunge soltanto lui potrà ottenere pace lavoro grandezza fortuna e qui decisamente si sbaglia quasi tutti i notabili dell'Italia liberale votano la fiducia a Mussolini anche Giolitti anche il giovane capogruppo alla camera del Partito Popolare Alcide De Gasperi che qualche anno dopo il Duce farà mettere in galera tra i pochi a dirgli di no fin da subito c'è l'ambasciatore a Parigi che non era un bolshevico era un conte il conte Carlos Forza che si dimette perché rifiuta di rappresentare il capo di un governo che disprezza Mussolini lo convoca tenta in vano di fargli cambiare idea e poi lo congeda con parole tecnicamente da delinquente ma lei non ha capito ancora che io posso farla mettere al muro con 12 pallottole nella schiena Mussolini parla alla camera con 300 mila giovani armati di tutto punto decisi a tutto e quasi misticamente pronti a un mio ordine io potevo caschizzare tutti coloro che hanno diffamato e tentato di infangare il fascismo potevo fare di quest'aula sorda e grigia un bivacco di manipoli potevo sfrangare il parlamento e costituire un governo esclusivamente di fascisti potevo ma non ho almeno per il momento voluto presto il Duce vorrà nel discorso del sediamento alla camera c'è già il suo progetto instaurare una dittatura le elezioni del 1924 sono una farsa e il 30 maggio di nuovo Giacomo Matteotti prende la parola alla camera per denunciare le violenze e i brogli la custodia dei seggi affidata ai militi in uniforme le commissioni elettorali composte esclusivamente da iscritti al fascio i balilla in divisa che hanno votato decine di volte Matteotti parla a fatica sovrastato dagli insulti dalle grida delle minacce mentre Mussolini lo osserva sempre più torvo rotando gli occhi agitando le mani scuotendo il capo e dopo più di un'ora quando Matteotti finalmente ha finito di parlare e quando i suoi compagni di partito gli si stringono attorno per congratularsi lui dice loro io io ho fatto il mio discorso voi ora preparate il mio discorso funebre Giacomo Matteotti può contare sul sostegno della sua donna velia vogliono sposarsi lei è religiosa vorrebbe sposarsi in chiesa ma lui è socialista vuole sposarsi in municipio lei insiste però ama talmente Giacomo che alla fine gli dà ragione cede accetta di sposarsi soltanto civilmente a Roma in Campidoglio e gliele dà notizia con una lettera vieni saremo felici lo stesso tu continuerai la tua vita io non posso in questo giorno mentire e dirti cosa non vera o nascondere il mio cuore sarò religiosa lo stesso ci vorremmo bene lo stesso vivendo uniti in qualsiasi lotta si tranquillo nulla potrebbe mai separarmi da te Matteotti viene minacciato aggredito seviziato velia va a vivere in Liguria con i tre figli ma viene braccata perseguitata anche lì eppure continua a fare coraggio al suo uomo pur sapendo che lui ormai è condannato a morte mi è difficile mi è difficile persuadermi che arrivato a questo punto non ti è ammessa alcuna viltà anche se questo dovesse costarti la vita il pomeriggio del 10 giugno 1924 tre assassini aspettano Giacomo Matteotti sotto casa lungo tevere Arnaldo da Brescia nel pieno centro di Roma uno è sicuramente Amerigo Dumini uomo forte del duce uno che si presenta così piacere Dumini nove omicidi la loro auto aspetta col motore acceso lo afferrano cercano di trascinarlo verso la macchina ma lui dimostra il suo coraggio anche nell'ultima occasione si dibatte si libera tenta di mettersi in salvo fugge lungo la scaletta che scende al fiume lo colpiscono alla nuca Matteotti sviene lo portano di peso nella lancia che parte verso Ponte Milvio lui riprende conoscenza perde sangue dalla bocca tenta di liberarsi uno dei sequestratori probabilmente Albino Volpi lo minaccia con un pugnale poi lo colpisce due volte al linguine e al torace gli assassini proseguono la corsa verso nord scavano in fretta una buca in un bosco della quarterella Ariano Flaminio la sera stessa Dumini avverte il duce due giorni dopo i quotidiani danno la notizia della scomparsa di Matteotti comincia una tragicommedia di pessimo gusto di pessimo gusto Ussolini finge di non sapere nulla in realtà sa tutto mentre il paese pervaso da un'ondata di emozione popolare il duce ordina i suoi di mettere in giro una voce Matteotti è scappato all'estero infine il corpo viene ritrovato velia scrive al ministero dell'interno per dare disposizioni sul funerale chiedo che nessuna rappresentanza della milizia fascista sia di scorta al treno nessun milite fascista di qualunque grado carica comparisca nemmeno sotto forma di funzionario di servizio chiedo che nessuna camicia nera si mostri davanti al feretro e ai miei occhi durante tutto il viaggio né a fratta polesine fino a tanto che la salma sarà sepolta voglio viaggiare come semplice cittadina che compie il suo dovere per poter esigere i suoi diritti indi nessuna vettura saloon nessun scompartimento riservato nessuna agevolazione o privilegio ma nessuna disposizione per modificare il percorso del treno quale risulta dall'orario di dominio pubblico se ragioni di ordine pubblico impongono un servizio d'ordine sia esso affidato solamente a soldati d'italia è quasi commovente il modo in cui velia Matteotti e in genere gli antifascisti tentano sino all'ultimo di distinguere tra il regime e l'italia eppure questa distinzione sta per cadere Mussolini approfitta del delitto Matteotti per instaurare la dittatura io dichiaro qui al cospetto di questa assemblea ed al cospetto di tutto il popolo italiano che assumo io solo la responsabilità politica morale storica di tutto quanto è avvenuto se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo fuori il palo e fuori la corda se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello e non invece una superba passione della migliore gioventù italiana a me la colpa se il fascismo è stato un'associazione a delinquere io sono il capo di questa associazione a delinquere il giro di vita è spietato via i sindaci eletti dal popolo arrivano i podestà nominati dal regime si ritirano i passaporti nessuno potrà più espatriare senza il consenso del dittatore istituiti il tribunale speciale e la polizia segreta ristabilita la pena di morte sciolti tutti i partiti tranne quello di regime espulsi 142 deputati di opposizione saccheggiate le case di benedetto croce con la più grande biblioteca privata d'europa arturo labriola emilio lussu arrestati i capi del partito comunista palmiro togliatti giuseppe di vittorio umberto terraccini e antonio gramsci il duce telegrafa al prefetto di torino mi si riferisce che noto gobetti sia stato recentemente a parigi e che oggi sia in sicilia prego informarmi e vigilare per rendere nuovamente difficile vita a questo insulso oppositore di governo e fascismo nove giorni dopo il duce viene obbedito i squadristi aspettano piero gobetti giornalista editore nell'androne di casa lo bastonano lo lasciano per morto e gli portano via carte volumi e danno le fiamme alcuni tre libri che ha pubblicato tra cui osse di seppia la raccolta di poesia di un giovane poeta ligure il suo nome è eugenio montale non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato non domandarci la formula che mondi possa aprirti si qualche storta sillaba e secca come un ramo codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo ciò che non vogliamo piero gobetti ha appena ventiquattro anni e figlio di un droghiere è andato dal suo maestro luigi inaudi più importante economista italiano a chiedergli un articolo per la sua piccola rivista precisando di non poter pagare un barone universitario di oggi lo metterebbe alla porta inaudi chiede quanto deve essere lungo l'articolo scrive e consegna dice in agobetti bisogna amare l'italia con orgoglio di europei e con l'austera passione dell'esule in patria i fascisti lo aggrediscono un'altra volta lui decide di andarsene non metterò più piede in italia morto o vivo il 28 dicembre 1925 nasce il figlio paolo il 3 febbraio 1926 gobetti parte per parigi da solo la moglie ada vorrebbe impedirglielo a come un presentimento ma non osa non potevo e non dovevo scriverà sarebbe stato tradirti mancarti farti soffrire alla stazione va a salutarlo eugenio montale scriverà anni dopo sul corriere della sera piero stava male viaggiava in terza classe ci siamo abbracciati sono stato l'ultimo amico che l'ha visto vivo in patria a piero gobetti restano appena dieci giorni di vita si spegne a mezzanotte del 15 febbraio del 26 in una clinica fuori parigi la moglie ada incredula distrutta rimasta sola con un bambino di due mesi scrive non è vero non è vero tu ritornerai non so quando non importa non importa ritornerai e il tuo piccolo ti correrà incontro e tu lo solleverai tra le tue braccia e io ti stringerò forte forte non ti lascerò più partire mai più è un vano sogno tutto questo una prova a cui hai voluto pormi tu mi vedi tu mi senti e io saprò mostrarmi degna del tuo amore quando ti parrà che la prova sia durata abbastanza tornerai per non lasciarmi più saranno passati molti anni ma immutati splenderanno i tuoi occhi e ritroverò le espressioni di tenerezza della tua voce mio caro mio piccolo mio amore ti aspetterò sempre ho bisogno di attenderti per vivere adagobetti sarà tra le fondatrici del partito d'azione e punto di riferimento della resistenza insieme con il figlio paolo piero gobetti riposa a parigi al cimitero del perlascese non aveva ancora 25 anni avrebbe potuto ancora scrivere pubblicare libri meravigliosi non aveva mai fatto niente di male a nessuno due anni e mezzo prima della morte di gobetti il 23 agosto 1923 gli squadristi hanno massacrato abbastonate un prete il parco di argenta provincia di ferrara don giovanni minzoni sull'ultima pagina del suo diario il sacerdote ha lasciato scritto a cuore aperto con la preghiera che mai si spegnerà sul mio labbro per i miei persecutori attendo la bufera la persecuzione forse la morte per il trionfo della causa di cristo nel luglio 1925 gli squadristi vanno cento contro uno a uccidere giovanni amendola liberale antifascista l'hanno già aggredito due volte ma stavolta lo vogliono proprio ammazzare così assediano l'albergo di montecatini terme dove è in vacanza scrive il figlio giorgio amendola il tenente dei carabinieri si impegnò a salire con lui nell'automobile l'eterna e fatale illusione appena uscito dall'albergo fu travolto da un primo assalto colpi di manganello lancio di pomodori sputi di insulti fu buttato di peso su una macchina e si ritrovò solo tra quattro fascisti il tenente dei carabinieri non c'era più dietro seguiva lentamente un camion dei carabinieri ma al primo bivio prese un'altra strada l'automobile dei fascisti portò amendola al luogo prestabilito per l'agguato ponte annevole la macchina si fermò perché dissero che c'era un tronco che sbarrava la strada piombarono su amendola un gruppo di squadristi di montecatini e lo colpirono con meticolosità egli non poté difendersi si era raggomitolato coprendosi il capo ed esponendo le spalle i colpi che avrebbero provocato il fatale dramma il fatale trauma a un certo punto apparvero i fari di un'automobile che si avvicinava veloce si seppe dopo che era una macchina straniera allora gli squadristi si ritirarono gli accompagnatori portarono il corpo esanime di amendola all'ospedale giovanni amendola muore in francia in clinica in una clinica romana si spegne invece il 27 aprile 1937 il capo del partito comunista italiano antonio gramsci dopo 11 anni di prigionia da cui mandava alla donna amata giulia lettere come questa mi pare di vederti sempre seria abbuiata vorrei perciò averti vicina troverei mi pare le cose più ingegnose per farti contenta per farti sorridere farei degli orologi di sughero dei violini di carta pesta del certo le di cera con due code insomma esaurirei tutto il repertorio dei miei ricordi sardeschi ti racconterei delle altre storie sempre più meravigliose della mia fanciullezza un po' selvaggia primitiva tanto diversa dalla tua e poi ti abbraccerei e ti bacerei tante volte per sentirti tutta vivente in me vita della mia vita come sei anche mussolini riceve lettere da una donna ida dal ser continua a dargli fastidio a reclamare i suoi diritti ma lui intanto è diventato il duce ha il suo potere consolidato e può ordinare levatemela di torno ed essere obbedito ida dal ser viene chiusa in manicomio da dove manda l'uomo che ancora ama messaggi straffeanti al mio apparire fui presa picchiata legata narcotizzata beffeggiata gettata nell'auto col bavaglio alla bocca fino all'acquiscura colà dopo avermi perquisita e torturata nei modi più volgari mi hanno gettata per terra stretta fra una camicia di forza ma tu benito non sai nulla tu non hai mai dato alcun ordine e con questo certissimo pensiero sfiderò tutti ti prego ti prego però di farmi uscire da quel putridissimo manicomio dove non hai alcun diritto di farmi seppellire ti imploro non fare insultare la madre di tuo figlio almeno per la pace della tua coscienza io io ti perdono perché sei tu il padre di mio figlio c'è un altro luogo comune da sfatare non è vero che tutti gli italiani sono stati fascisti certo gli antifascisti militanti erano una piccola minoranza ti aspettavano sotto casa ti sfasciavano la testa ti facevano bere l'olio di ricino ti portavano davanti al tribunale speciale 31 con danni a morte eseguite 5.000 persone in carcere decine di migliaia al confino che era la morte civile non una vacanza poi certo c'erano i fascisti convinti e c'era la maggioranza degli italiani che si rassognò a perdere la libertà le donne erano di fatto costrette a stare a casa le tasse scolastiche erano più alte per le femmine che per i maschi meno donne studiavano e meglio era le donne non potevano insegnare materie scientifiche negli istituti tecnici e non potevano insegnare lettere nei licei da mussolini mise fuori legge la professoressa di lettere c'era un tetto massimo del 10 per cento di donne al lavoro e quindi una gigantesca quota azzura del 90 per cento riservata agli uomini il codice penale introdusse il delitto d'onore e il matrimonio riparatore chi voleva una donna se la prendeva c'erano il sabato fascista e la tassa sul celibato non è uno scherzo chi non si sposava doveva pagare una tassa e venne introdotta anche la tassa sui matrimoni infecondi come se non poter avere un figlio fosse una colpa e nonostante questo la curva demografica scese non è vero che se facevano più figli durante fascismo l'omosessualità ufficialmente non esisteva gli omosessuali venivano confinati in quando condannati politici motivazione difesa della razza a catania c'era un questore particolarmente zelante che mandava tutti gli omosessuali della città della provincia al confino alle isole tremiti fino a quando il direttore del carcere delle tremiti non scrisse al duce dicendo fatelo smettere perché abbiamo le isole piene di omosessuali di catania e non sappiamo più dove metterli si dovevano contare gli anni non più dalla nascita di cristo ma dalla marcia su roma primo anno dell'era fascista secondo anno dell'era fascista terzo anno dell'era fascista così senza sprezzo del ridicolo a un certo punto venne abolito il capodanno c'è sta raccia il segretario del partito ordinò che non bisognava più festeggiare al 31 dicembre ma al 28 ottobre ma quella volta gli italiani non lo presero su serio tra gli scrittori nacque una gara di adulazione parte subito forte curzio malaparte direttore della stampa che compone questi versi in onore di mussolini dacci pane pei nostri denti fantasie e cazzottature ogni sorta di ardimenti di mattane d'avventure spunta il sole e canta il gallo o mussolini monta cavallo altri poeti meno portati all'epica celebrano così il matrimonio tra edda mussolini e galeazzo ciano rampollo del fascismo erede naturale del duce galeazzo ciano conte di cortellazzo bella la rima inano migliore quella inazzo ai professori universitari venne imposto di giurare fedeltà molti giurarono giurarono per convinzione molti giurarono per non lasciare i fascisti il monopolio dell'insegnamento vorrei però ricordare i nomi dei professori universitari che dissero no e persero la cattedra a torino non giurano mario carrara genero di lombroso suo successore lionello venturi il grande storico dell'arte francesco ruffini già aggredito dai fascisti e suo figlio edoardo a roma ernesto buonaiuti storia del cristianesimo gaetano de sanctis storia antica antonio de viti de marco scienza delle finanze giorgio levi della vita lingue semitiche e il fisico vito volterra a pavia al chimico giorgio herrera a macerata al giurista fabio luzzatto a milano il filosofo piero martinetti a bologna il chirurgo bartolo nigrisoli a napoli l'amministrativista enrico presutti non giurarono neppure floriano del secolo docente di lettere al collegio militare dell'annunziatella il filosofo cesare goretti il segretario della normale di pisa aldo capitini vittorio manuele orlando andò in pensione anticipata per non giurare giuseppe antonio borgese partì esula per l'america piero sraffa l'amico di gramsci si dimise dall'università di cagliari padre agostino gemelli ottenne che i docenti della cattolica da lui fondata fossero esentati dall'obbligo va ricordato a loro discredito che tutti tranne gemelli altri tre volero giurare lo stesso il papa critica il duce il duce ordina ai giornali ignorare il papa o anche poco papa lo scrittore lucio d'ambra fa notare che se napoleone festeggiava col nastro rosso gli eroi di guerra mussolini celebra invece le mamme col nastro bianco delle culle mussolini fregia il seno fecondo delle donne italiane che benedette da dio nella gloria della maternità preparano primavera di fanciulli l'italia di domani ugo ietti direttore del corriere della sera celebra così la decisione del duce di abbattere un intero quartiere medievale per aprire la via dell'impero in modo da far sfilare le truppe sui fori e poter vedere il colosseo dal balcone di palazzo venezia è l'opera più vasta e audace mai compiuta d'un solo impeto a roma per liberare alla vista monumenti antichi celebri nell'intero mondo è in atto la volontà di benito mussolini archeologi architetti soprazzanti manovali lavorano si può dire per lui aspettano la visita sua le domande sue il consenso suo quel sorriso che comincia in un lampo degli occhi e talora si ferma lì per fortuna il duce vigila dalle sue finestre a palazzo venezia si affaccia spesso a osservare le squadre che lavorano al foro traiano e se gli sembra che siano più rade e più lente dopo un attimo un suo messo piomba lì a vegliare e a svegliare i dormienti così i cronisti raccontano la visita di mussolini a una colonia da tutte le parti i bimbi incuranti degli ordini delle loro insegnanti che in vano cercano di inquadrarli si sono precipitati incontro al duce chiamandolo a voce altissima e affollaviandosi intorno agitando i berretti in un delirio di entusiasmo i più coraggiosi che hanno baciato le mani il duce sorrise a lungo ha accarezzato i più vicini e infine ne ha baciato uno per tutti tra nuove vibrantissime acclamazione dei piccoli i libici erano meno entusiasti per riconquistare la cirenaica mussolini devasta i villaggi accusati di aiutare i guerriglieri ne deporta la popolazione attraverso mille chilometri di deserto e la chiude nei campi di concentramento sulla costa muoiono 40.000 donne bambini vecchi mussolini può così visitare la libia pacificata ecco il sobrio resoconto del popolo d'italia sta la salda figura del duce con il forte volto imbrunito dal sole alta sulla duna e si staglia maestosamente nella serenità splendente del cielo la cerimonia è compiuta il duce lascia la duna e si avvia verso tripoli seguito dai duemila cavalieri galoppanti tra turbini di polvere in una visione guerresca tra le schiere delle palme poi mussolini invade l'etiopia graziani e badoglio sconfiggono gli etiopi grazie all'iprite il gas vietato dalle norme internazionali poi badoglio torna a casa e graziani si fa incoronare vicere di etiopia subisce un attentato sopravvive e scatena la rappresaglia centinaia di morti innocenti vengono fatti passare per le armi tutti i cantastori e gli indovini di cui era piena addisabeba perché graziani si era convinto che fossero complici dell'attentato poi vengono rastrellati i monaci cristiani di debra libanos e vengono falciate dalle mitragliatrici almeno 449 morti poi mussolini interviene nella guerra civile spagnola manda 80.000 uomini a combattere al fianco del golpista franco contro i soldati rimasti fedeli alla repubblica ci sono anche eri italiani accanto quelli nazisti che radono al suolo un villaggio basco inerme guernica usolini ordina personalmente i bombardamenti di barcellona che fanno migliaia di morti tra i civili per combattere il fascismo accorrono in spagna volontari da tutta europa tra loro c'è un giovane ebreo fiorentino carlo rosselli che alla radio della spagna repubblicana proclama con questa speranza segreta che siamo a corsi in ispagna oggi qui domani in italia fratelli compagni italiani ascoltate è un volontario italiano che vi parla dalla radio di barcellona non prestate fede alle notizie bugiarde della stampa fascista che dipinge i rivoluzionari spagnoli come orde di pazzi sanguinari alla vigilia della sconfitta oggi in spagna domani in italia carlo rosselli pagherà con la vita queste parole e anche una beffa escogitata sotto gli occhi del duce quando muore anna kulishov compagna di filippo turati storico capo del socialismo italiano i fascisti manganellano i partecipanti al funerale strappano le corone di fiori e turati si salva per miracolo i suoi amici tra cui carlo rosselli gli dicono tu non puoi restare in italia devi scappare all'estero e turati dice dove scappo se ho la polizia che mi piantona la casa allora carlo rosselli ferruccio parri e altri fanno scappare turati di solaio in solaio e lo portano prima a ivrea a casa di olivetti e poi a torino a casa di un professore giuseppe levi maestro di rita levi montalcine renato dulbecco che ha in casa una bambina che guarda incuriosita la scena suo nome natalia più famosa come natalia ginsburg perché sposerà leone ginsburg morto sotto le torture nazifascista regina cieli insomma bisogna far scappare turati ma i valichi per la francia per la terra sono bloccati l'unico modo è andare via nave per per la corsica allora parli dice ma io ho un amico un avvocato socialista un po matto a savona uno che piglia sempre un sacco di bastonate l'altro giorno l'hanno aggredito ancora il braccio rotto si chiama sandro bertini potrebbe essere lui a trovarsi una nave allora bertini trova veramente un motoscafo nella notte partono in macchina guida adriano olivetti colui ci sono turati rosselli e parri e il mare in tempesta ma bisogna partire lo stesso la barca arriva l'alba in corsica vengono tutti arrestati però poi turati viene riconosciuto e fanno una festa in suo onore di quelli che fanno scappare turati ferruccio pari diventerà presidente del consiglio sandro bertini diventerà presidente della repubblica adriano olivetti sarà l'industriale simbolo della ricostruzione carlo rosselli verrà assassinato dai sicari del regime insieme con suo fratello nello rosselli erano i fondatori di giustizia e libertà sulla loro tomba a firenze piero colamandrea fatto scrivere giustizia e libertà per questo morirono per questo vivono e il 1938 l'anno dell'alleanza con hitler dice mussolini occorre che gli italiani siano meno simpatici e diventino duri implacabili e odiosi cioè padroni occorre introdurre il passo romano che i sedentari i panciuti i deficienti le cosiddette mezze cartucce non potranno mai fare il re si riconosce nell'immagine della mezze cartuccia e si offende il 1938 è anche l'anno delle leggi razziali anzi razziste in un primo tempo il duce vagheggia di deportare tutti gli ebrei italiani in una remota regione del nord della somalia e al genero ciano confida la proposta di concentrare gli ebrei nella migiurtina e di adibirli alla pesca del pesce cane mi pare vantaggiosa anche perché in un primo tempo molti finirebbero mangiati è vietato agli ebrei insegnare nelle scuole pubbliche iscriversi all'università far parte di istituti accademi associazioni è proibito il matrimonio tra ariani ed ebrei che ebrei stranieri saranno espulsi gli ebrei italiani non potranno più iscriversi al partito e quindi lavorare prestare il servizio militare dirigere aziende possedere più di 50 ettari di terreno tutti gli ebrei anche i bambini devono lasciare la scuola 200 studenti universitari tra cui rei talevi e montalcini mille liceali tra cui franca valeri 4500 scolari tra cui liliana segre sono costrette ad abbandonare le loro classi senza aver fatto niente di male gli ebrei vengono cancellati dagli elenchi del telefono è proibito agli ebrei tenere conferenze firmare articoli anche sotto pseudonimo vietato rappresentare drammi e commedie di autori ebrei vietato vendere ricordini in piazza san pietro vietato tenere banchi in campo dei fiori vietato frequentare le località di cura e di velleggiatura gli ebrei non possono ascoltare la radio né avere una persona di servizio ma al massimo della crudeltà è forse proibire di pubblicare sui giornali i necrologi degli ebrei almeno 30 ebrei si tolgono la vita ma nessuno lo sa perché è vietato pubblicare i loro necrologi il colonnello morpurgo raduna le sue truppe chiede perdono per le mancanze sue ringrazia per l'affetto ricevuto annuncia che partirà per un lungo viaggio e si uccide a novellara e cavaliere carlo segre uomo anziano rispettato si ritrova fuori dalla comunità la gente non lo saluta più per strada e una sera a teatro un gruppo di giovinastri in camicia nera lo apostrofa e tu rabbi seneghin e tu ebreuccio rabbino cavaliere segreto torna a casa e si toglie la vita con il veleno il 9 giugno 1939 qui a modena come sapete bene l'editore angelo formiggini si getta dalla ghirlandina ridando italia italia come a scuotere le coscienze ha le tasche piene di soldi per evitare che qualcuno possa dire che l'ha fatto per motivi politici ieri sono stato a vedere la lapide che voi modenesi avete messo il tovagliolo di formagini era un uomo humorista un uomo che aveva senso dell'ironia anche nei momenti più drammatici e prima di suicidarsi scrive alla moglie non posso rinunciare a ciò che considero un mio dovere preciso io debbo dimostrare la solidità malvagia dei provvedimenti razzisti commenta il segretario del partito fascista starace formigini è morto proprio come un ebreo si è buttato da una torre per risparmiare un colpo di pistola scrive invece umberto saba sono un poeta italiano che per essere nato da madre ebrea sarò così all'improvviso tagliato fuori dalla vita del mio paese che ho tanto amato qualcuno sostiene che la guerra sia un impazzimento del duce ma in realtà la guerra è l'esito naturale del fascismo del fascismo e insita l'idea di una razza che si impone su un'altra di una nazione che si impone su un'altra solo che il duce ha parlato di guerra per vent'anni e non l'ha preparata e anche mandare i soldati italiani senza neanche le scarpe adatte in russia congelare anche quello fu un crimine contro il nostro stesso popolo ma mussolini non si occupa di questi dettagli preferisce occuparsi delle parate scrive nel suo diario suo genero ciano cura di persona ogni piccolo particolare passa dalle delle intere mezz'ore alla finestra del suo ufficio nascosto dietro la tendina azzurra e occhieggia occhieggia il movimento dei reparti ha voluto lui che tamburi e trombe fossero sempre contemporanei ha istituito il bastone del capo banda e personalmente insegna il movimento che deve venire fatto e corregge le proporzioni e la foggia del bastone stesso il 10 giugno 1940 il duce proclama la guerra dal balcone attacchiamo la francia con i tedeschi già a parigi e non muoviamo un passo abbiamo 2631 congelati a giugno perché i nostri soldati hanno le divise di tele quelle estive a torino c'è un ospedale le molinette che aveva e ha un reparto di chirurgia vascolare molto avanzato ma non se ne tenne alcun conto e a poche decine di chilometri in valsusa si tagliavano braccia gambe di alpini che avrebbero potuto essere curati i nostri morti sono 631 più 616 dispersi i morti francesi sono 37 ma il peggio deve ancora venire ussolini si è messo in testa di spezzare le reni alla grecia il piano d'affione è semplice stabilito l'inizio delle operazioni il 26 ottobre prevista la liquidazione dell'epiro verso il 10 novembre e poi marcia vittoriosa su atene questa è un'azione che ho maturato lungamente da mesi e mesi prima della nostra partecipazione alla guerra e anche prima dell'inizio del conflitto se qualcuno trova difficoltà a battersi contro i greci mi dimetto da italiano si ottenente i greci sparano chissà perché ci siamo illusi che saremmo avanzati così senza incontrare resistenza invece i greci si battono non hanno un esercito potente ma hanno una cosa che a noi manca hanno un motivo i greci combattono per difendere la patria ci ricacciano in albania il duce si porta in albania pilotando di persona all'aereo per guidare la controffensiva e si compiace nel vedere nello weiss il binocolo che gli ha regalato il fuhrer le cataste di alpini che si accumulano fuori dalle trincee come sull'isonzo eppure non riusciamo a sfondare a vincere la guerra sono i tedeschi che arrivano ad atene in pochi giorni ma mussolini si attribuisce il merito della vittoria questo il commento di winston churchill alla camera dei comuni con uno speciale proclama il dittatore italiano si è congratulato con l'esercito in albania per gli allori gloriosi che ha conquistato con la sua vittoria sui greci questo è senz'altro il record mondiale nel campo del ridicolo e dello spregevole questo sciacallo frustrato mussolini che per salvare la sua pelle ha reso l'italia uno stato vassallo dell'impero di hitler viene a far capriole al fianco della tigre tedesca con latrati non solo di appetito il che si potrebbe comprendere ma anche potuto essere di trionfo sono sicuro che ci sono milioni e milioni di persone nell'impero britannico come negli stati uniti che troveranno una nuova ragione di vita nell'assicurarsi che quanto giungeremo alla resa dei conti finale e questo assurdo impostore sarà abbandonato alla giustizia pubblica e al disprezzo universale mussolini uno statista talmente lungimirante che arriva a dichiarare guerra contemporaneamente all'impero britannico gli stati uniti d'america e all'unione sovietica eppure hitler l'aveva scongiurato di starne fuori di non partecipare all'attacco alla russia gliel'aveva proprio scritto sono otto giorni che una brigata corazzata sovietica dopo l'altra viene attaccata battuta distrutta e nonostante ciò non si è rimarcata alcuna diminuzione nel loro numero nella loro aggressività una vera sorpresa è stato un carro armato russo di cui non avevamo idea un gigantesco carro armato di 52 tonnellate purtroppo il duce non da retta al fuhrer la ritirata di russia è una pagina drammatica 80.000 morti molti sono salvati dai contadini ucraini che aprono le porte delle loro capanne ai soldati italiani nel frattempo nella jugoslavia occupata dai tedeschi dagli italiani mussolini chiede la massima spietatezza contro i resistenti deve cessare il luogo comune che dipinge gli italiani come dei sentimentali incapaci di essere duri quando occorre non vi preoccupate del disagio economico della popolazione lo ha voluto attualmente la balcania costituisce per noi una forte usura e non sarei alieno dal trasferimento di popolazioni in massa il generale barbera che comanda la regione di zara stabilisce non dente per dente ma testa per dente segue l'ordine di fucilare 65 ostaggi e il generale robotti raccomanda maggiore severità e conclude non si uccide abbastanza quindi si uccide di più 170 fucilati dalla divisione granatieri 270 dalla macerata 118 a podum in istria 300 nel rastrellamento del gennaio 1943 il generale robotti specifica non ha importanza se nel corso degli interrogatori risulti che si ha a che fare con persone inoffensive ricordatevi che per varie ragioni anche questi elementi possono diventare dei nemici di conseguenza deportazione totale io non mi opporrò a che tutti gli sloveni siano internati e sostituiti da italiani le città italiane subiscono bombardamenti durissimi la contraerea non riesce a difenderle l'unica difesa e la fuga manca tutto il car la carne il latte il pane persino l'olio il caffè la legna mussolini però se ne compiace non è un male se gli italiani dimagriscono un po' l'importante è abbandonare la vita pittoresca disordinata di un tempo dobbiamo diventare disperatamente un popolo serio questa neve e questo freddo vanno benissimo così muoiono le mezze cartucce e si migliora questa mediocre razza italiana la colpa è della parte deteriore della nazione composta da tutti coloro che sono minorati fisici e minorati morali da tutti coloro che sono ciechi storpi sdentati cretini imboscati deficienti tutti costoro siccome non hanno mai fatto la guerra siccome non potranno mai fare la guerra trovano un alibi alla loro coscienza dicendo che questa guerra non si doveva fare si conclude anche la triste storia di ida dal ser che muore in manicomio e di suo figlio benito albino siccome il giovane insiste nel dire io sono il figlio del duce viene chiuso e fatto morire anche lui in manicomio cioè mussolini il buon padre di famiglia ha fatto morire in modo atroce il suo stesso figlio e la donna che l'ha messo al mondo siamo nell'agosto 1942 gli resta meno di un anno di potere il resto della storia abbastanza noto lo sbarco in sicilia il 25 luglio la caduta e mussolini farà fucilare gerarchi che gli hanno votato contro nel gran consiglio del fascismo e che non hanno avuto l'accortezza di fuggire tra cui anche il genero galeazzo ciano e qui romperà con l'unica donna che forse abbia mai davvero amato sua figlia edda la moglie diciano che in vano ha implorato il padre di risparmiare la vita galeazzo e alla fine lei lo maledice dice al padre io ti perdonerò soltanto se fuggirai o ti ucciderai ma mussolini non fa nessuna di queste due cose il duce viene arrestato e mandato prima a ponza poi alla maddalena quindi sul gran sasso perché come gli spiega l'ammiraglio maugere che lo scorta si teme che i tedeschi vogliano liberarlo e usarlo contro il nuovo governo mussolini si indigna o finge di indignarsi questa è la più grande umiliazione che mi si possa infliggere e si può pensare che io possa andarmi in germania a tentare di riprendere il governo con l'aiuto dei tedeschi a no no davvero invece è proprio quello che farà l'otto settembre l'italia si arrende agli anglo americani il re fugge i nazisti invadono il nostro paese e mussolini si mette al loro servizio a cefalonia comincia la resistenza gli italiani si battono contro i tedeschi e vengono passati per le armi gli altri 800 mila soldati vengono fatti prigionieri mandati nei lager in germania spogliati picchiati umiliati affamati poi viene detto loro adesso vi diamo una divisa vi diamo da mangiare vi liberiamo ma dovete firmare qua impegnarvi a combattere per noi per i tedeschi oltre 600 mila la netta maggioranza rifiuta e preferisce restare nei lager in condizioni durissime a decine di migliaia moriranno di fame e di stenti pur di non andare a combattere per italia anche quella fu resistenza tra loro c'era e giancarlo rossi il papà di vasco rossi che si chiama così perché il papà era caduto in una buca sotto un bombardamento nel lager e un suo amico si chiamava vasco lo tirò fuori li salvò la vita e gli disse lo salverò un figlio maschio lo chiamerò vasco come te anche papà di di pietro papà di albano tantissimi tantissimi e anche giovanni guareschi che lascia scritto nel suo diario io a salò non vado resto piuttosto nell'agra e non muoio neanche se mi ammattano siamo modena non possiamo non ricordare che il new york times scrisse che la prima città italiana a liberarsi da sei liberata dei patrioti fu modena a modena fino a vissuta fino a pochi anni fa anna enrica filippini l'era che scrisse alla più bella lettera secondo me del 25 aprile l'era stata liberata da un campo di concentramento tedesco e scrive al papà papà sto benissimo e sono in grande forma in realtà stava morendo di fame dice adesso torneremo in italia e lo so che l'italia pezzi ci sarà molto da lavorare ma lavoro non ci spaventa ricostruiremo il nostro paese la nostra vita sarà meravigliosa prima del 25 aprile però passano mesi terribili in cui i ragazzi di salò come vengono definiti con una definizione assolutoria compiono dei crimini terribili perché i vinti sono tali dopo il 25 aprile e oggi ci sono delle pagine nere che dobbiamo sicuramente denunciare non nascondere ma prima salò al coltello dalla parte del manico e all'appoggio della wehrmacht della formidabile macchina bellica tedesca e lo usa mentre i partigiani quando venivano catturati dovevano solo sperare di avere una morte rapida e non è vero che mussolini si mette al servizio di hitler per temperarne la rabbia a volte hitler è meno spietato di mussolini con gli italiani quando i polacchi prendono cassino distrutta dando il corpo l'italia l'anima dio e il cuore alla polonia come scritto una bellissima lapide allora hitler ordina ai tedeschi di ritirarsi da roma senza combattere e attestarsi sulla linea gotica invece mussolini voleva difendere roma casa per casa dicendo perché i romani devono avere un trattamento migliore degli abitanti di cassino quindi era pronto a fare distruggere roma da roma vengono portati via gli ebrei 16 ottobre 1943 opera dei nazisti ma sono i fascisti che danno le liste 1023 ebrei romani esponenti della più antica comunità ebraica del mondo vengono portati ad auschwitz e solo 17 faranno ritorno ma la razzia del ghetto di venezia e opera dei fascisti italiani levi mario di beniamino di anni 4 levi lino di beniamino di anni 6 todesco sergio di eugenio di anni 4 nacamulli mara di eugenio di anni 3 nei giorni successivi vanno a prendere i vecchi alla casa di riposo israelitica e i bambini all'asilo l'elenco dei bambini viene comunicato dal questione appunto di venezia che abbiamo appena sentito il comandante del campo di fossoli le loro case rimaste vuote vengono saccheggiate e le stragi sono appena all'inizio roma fosserde atine 24 marzo 1944 335 morti abbazia della benedicta 3 aprile 1994 72 partigiani caduti in combattimento 75 fucilati 140 morti nei lager fivizzano 24 agosto 1944 340 morti sant'anna di stazzema 12 agosto 1944 560 morti di cui 130 bambini marzabotto 29 settembre 1944 1830 morti e le stragi del nazifascismo non finiscono con la liberazione milano piazza fontana 12 dicembre 1969 17 morti 88 feriti peteano 31 maggio 1972 3 carabinieri assassinati brescia piazza della loggia 28 maggio 1974 8 morti 102 feriti durante una manifestazione sindacale treno italicus san benedetto val di sambro 4 agosto 1974 12 morti 48 feriti stazione di bologna 2 agosto 1980 85 morti 200 feriti la dittatura fascista greca cade solo nel 1973 quella portoghese nel 74 quella franchista che mussolini aveva contribuito a instaurare nel novembre 1975 il colpo di stato in cile è del 1973 almeno 3.000 morti dittature militari sono al potere in quegli anni in brasile e in argentina dove i desaparecidos sono almeno 30.000 l'antifascismo non è una cosa di sinistra dovrebbe essere il patrimonio della nazione non di una fazione tra i partigiani c'erano comunisti socialisti azionisti e c'erano monarchici liberali cattolici c'erano alpini militari carabinieri sacerdoti c'erano tanti ragazzi di vent'anni che non sapevano neanche cosa fosse un partito ma che non volevano più combattere per hitler e dopo referendum tutte le forze politiche hanno scritto insieme la costituzione che all'articolo 3 recita tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge sesta distinzione di sesso di razza di lingua di religione di opinioni politiche di condizioni personali e sociali l'articolo 3 della costituzione raffigura proprio il rovesciamento del fascismo per Mussolini i cittadini anzi i sudditi non erano tutti uguali i bianchi valevano più dei neri gli uomini delle donne chi parlava italiano di chi parlava tedesco o sloveno i cattolici degli ebrei i fascisti degli antifascisti gli eterosessuali degli omosessuali e di fatto tutta la sua politica al di là della retorica privilegiò i ricchi rispetto ai poveri i padrone e salariati i possidenti ai proletari i forti ai deboli ha scritto un partigiano nato anche lui cent'anni fa beppe fenoglio partì verso le somme colline la terra ancestrale che l'avrebbe aiutato nel suo immoto possibile nel vortice del vento nero sentendo come era grande un uomo quando è nella sua normale dimensione umana e nel momento in cui partì si sentì investito in nome dell'autentico popolo d'italia a opporsi in ogni modo al fascismo a giudicare ed eseguire a decidere militarmente e civilmente era inebriante tanta somma di potere ma infinitamente più inebriante era la coscienza dell'uso legittimo che ne avrebbe fatto e anche fisicamente non era mai stato così uomo piegava Erculeo il vento e la terra e pensò che forse un partigiano sarebbe stato come lui ritto sull'ultima collina guardando la città la sera del giorno della della sua morte ecco l'importante che ne restasse sempre uno Andrea Ferrari Aldo Cazzullo vi ricordo vi ricordo la firma copie Aldo adesso sarà a vostra disposizione per firmare i libri buonanotte a tutti ciao Andrea ciao grazie davvero grazie a questo meraviglioso posto guardate che non esiste in Italia un posto in cui trovi così tanta gente così appassionata così amante dei libri quindi davvero grazie al mio amico Marco Panini grazie allo staff della banca del del forum Monzani al mio amico Beppe Rottafavi al mio figlio e grazie a tutti quanti voi grazie 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 a tutti